Steph! Scendi, 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 scendi! Sto scendendo, vai, vai prima tu! Che se non ci diamo i colpi! Ok, veloce, 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 veloce! Benvenuti in questa nuova serie di Minecraft Vorrei spiegarvi come funzionerà Ma tra poco più di 6 minuti Esploderà tutto nel mondo Quindi, sapete, non abbiamo molto tempo Come funziona? Ve lo spiego Mentre cerchiamo di prendere tutto quello che possiamo Funziona in questo modo Armature! Praticamente, tra 6 minuti, cade una bomba Esplode tutto E noi dobbiamo rifugiarci in un bunker 6 minuti perché? Perché è un riferimento a 60 seconds Infatti, come su 60 seconds Noi avremo soltanto 6 minuti Invece che 60 secondi Per prendere più cose possibili E sopravvivere all'interno di un bunker Sarà una serie veramente difficile e complessa Lo scoprirete nel tempo Ma sarà anche super divertente Prendiamo ovviamente anche i letti Stiamo facendo razia di tutto quello che c'è nella casa Beh, bene, questa è la casa nostra Quindi direi che possiamo tranquillamente farlo Nel more stand pensi che ci possono servire? Tu che ne dici? Non lo so Mi sembrano abbastanza inutili Allora Dammi un ascio Dammi qualcosa Vado a prendere un po' di legna Vai a prendere legna Vai a prendere legna Esatto Quello è il timer Ho preso del grano in mano Per ne due Forse chiedere troppo Però ovviamente è ideale No, no, siamo obbligati ad averne due Altrimenti è inutile Se esploderà tutto Esploderanno anche gli animali Quindi o abbiamo questi Allora, vado a vedere Se è caduto qualche sapling Dai, cadi, cadi, cadi Non riesco a trovarne, Steph Pronto a rompere anche le foglie Che magari dà una mano Ma non ne trovo Pecora Un disastro Se non trovo neanche un sapling Forza, seguimi Accidenti Accidenti Dai, dai Una mela Ma perché devo perdere tempo con voi? Muoviti Steph Immagino sarà un disastro Ferre, prendi anche della terra Eh, Steph Io non ho preso neanche un sapling Però, eh Zero Non cadono Non cadono Sto rompendo anche le foglie Di tutti gli alberi Non so se adesso Nel tempo che avanza Riuscirà a caderne uno Ma non cadono Sto prendendo io la terra Dato che avevo comunque una pala L'ho presa anch'io E a mani nude La sto prendendo No, non perde tempo Io una pala Allora, vediamo i sapling Ti prego, almeno uno Almeno uno essenziale Qui non è caduto Qui non è caduto Dai Gli animali stanno andando malissimo Accidenti È orribile sta cosa Cioè mi è caduta la mela Pensa te Che la mela è più rara Mi è caduta la mela Non ci credo Allora, 58 blocchi Allora Se la pecora si degna di guardarmi Ecco, brava Brava Ci siamo Siamo vicinissimi al bunker Forza Se entri tu poi Ho poco più di un minuto Per farne entrare un'altra Eh, ho poco più di un minuto Per prendere qualcosa Allora Dai, accidenti Niente sapling Penso Steph Una sfortuna incredibile Non cade Non cade Non riesco a far entrare le pecore Mi dispiace Non ho notato Non ho notato Mi arrendo mi sa Vieni Vieni Caduto Uno va bene Steph Ci accontentiamo No, uno non va bene Cerca di prendere un altro Cerco di aiutarti con le pecore Che è più importante No, non ce la facciamo con le pecore Non riusciamo a farle scendere Ma no Steph Non possiamo non farcele Come sopravviviamo? Eh, con le coltivazioni Ma sotto terra Steph Non crescono le cose Cioè le piantine Comunque il grano Non ho bisogno di luce Lo so Troveremo il modo Qua ti devo dire No, non troveremo il modo E tanto se non Moriremo di fame In tre giorni Ecco cosa succederà Fere mancano 30 secondi Sei vicino al bunker? Eh, sì Io ti vedo Quindi suppongo di sì Muoviti, muoviti Due stapling Me ne vado Posso sapere perché Ne ho cinque Di che cosa? Di stapling E che cosa ne so Allo cadono Allora Fere Io provo a portare la pecorea dentro Ok Vai, vai, vai Devi premere il bottone Quando te lo dico io Ok Mi metto qua in posizione Il bottone è qua Perfetto No Fere Dobbiamo mollarla Vieni qui Sei qui davanti Mancano 10 secondi Fere andiamo Vai Steph Scendi, 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 scendi Sto scendendo Colpi Ok Veloce, veloce, veloce Veloce 3, 2, 1 No Qua c'è la mia terra Accidenti, Steph Vabbè, dovremmo essere Sì, muoviti Muoviti, ragazzi Oddio Oddio Muoviti Addio mondo di Minecraft E addio anche a noi Non abbiamo nulla Accidenti Come faremo a sopravvivere? Eh, bella domanda Allora, questo posto è orribile Potevi ripulire il bunker almeno? Fere Non è utilizzato da non so quanto tempo Eh, si vede Guarda 50 minuti solo per entrare Aspetta Rompile un pochettino Ok Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Beh Steph Benvenuto nella nostra nuova vita Sì, Fere, senza animali Ho già fame Ho già fame Anche io Ho solo una mela Questo è l'unica fonti cibo che io ho oggi Però non mangiare subito Aspetta che ti venga più fame Sì, esatto Mangiati la mela La mela va bene Esatto Mi mangio la mela Anche secondo me va bene Ok Non è vero, mi rimane mezzo polletto Ma dimmi te Vabbè Allora, io direi Togliamo un attimino tutte le ragnatelle dalle scatole Sì, puliamo un pochino Anche perché effettivamente è la nostra unica lana Che ti dico? Non è che ci serve in modo urgente Perché comunque io ho preso i letti dalla casa Sì, che poi la notte nel bunker Sai, alla fine è ora che ci penso Non ci cambia niente Cioè, al momento non sappiamo neanche quando è giorno e quando è notte Esatto Perché non possiamo sbirciare fuori Allora, io aggiungerei qualche torcia perché sono già depresso C'è già troppo buio Quindi qualche torcia qua e là per illuminare un po' di più Ci sta Tanto le abbiamo Sistemiamo un attimino e cerchiamo di capire come sopravvivere La cosa positiva almeno è che abbiamo delle casse Chissà se c'è qualcosa dentro Magari qualche vecchia provvista Ma probabilmente è scaduta Quindi è una cosa terribile Se non la fare Però almeno possiamo farci un mini magazzino Non so quante cose riusciremo a procurarci Ma vabbè, sai, anche le fornaci Ok, che la cobblestone qua E ce l'abbiamo all'infinito Però almeno non dobbiamo perdere tempo a trattarle Esatto Ti dico, quel minimo di utilità Vabbè, il bunker è così È pronto per sopravvivere a qualsiasi evenienza E soprattutto ai disastri, Steph Sì, però senza animali Sono un po' scettico Allora, facciamo un po' il punto della situazione Ok, cosa tu hai? Allora, io ho 30 blocchi così Di questi non lavorati Ok 12 di terra che permetto di lasciare perle Ok Un fiore Ok Due sapling Ok Eh, niente, il resto me l'hai dato tu Sono le stringhe Ok E poi il polletto Allora, io ho 12 di carbone Che comunque prendiamo con facilità qua Una crafting table Sì? Ah, è vero Tieni la tua Tieni la tua In effetti mi sono ricordata di aver preso anche le armature Opla Perfetto Ti dicevo 12 di carbone Un crafting table Vabbè Due fornacci Vabbè Due chest Vabbè I letti 58 di terra 1 di carne di pollo Cruda 5 di carne di maiale cruda 5 sapling di birch 48 stringhe Che almeno diventeranno della lana Quindi sono utili 37 di oak wood planks Poi abbiamo 7 di carne cotta 3 di carne cotta Quindi 10 di carne cotta totale 31 semini 5 di grano Un secchiello E qualche utensile Vabbè Bene o male Non siamo messi così tanto male Scusa il gioco di parole Con le provviste Sei stata terribile Allora, dove voi letti? Eh, dove ci stanno Ma anche qui Qui, vero? Sì Così? Sì Tanto bene Alla fine questo è lo spazio Ovviamente l'umanità si è sterminata L'umanità si sono sterminata Non penso ci giudicheranno molto Per come arrediamo casa Esatto A parte i consulini Che ovviamente ci vedono Allora Comunque io volevo rinnotare Un attimino l'ingresso del bunker È veramente profondo Ma immagino che sia per essere Super sicuro È certo I bunker stanno sotto terra E qua siamo difesi Ovviamente noi possiamo uscire Ma immagino che le radiazioni In questo momento Siano terribili Quindi sinceramente Allora io direi Di aspettare un pochino Esatto Cioè di fare una prima spedizione È perlomeno una prima sbirciatina Perché secondo me è più giusto Chiamarla così Più avanti Quando le cose vanno un po' meglio Sì Sono d'accordo con te Allora io direi di mettere Subito a cuocere La carne cruda che abbiamo Della serie Almeno così Sentiamo profumo di cibo E ci illudiamo Che qualcosa Può andare bene Però ovviamente bisogna Subito pensare A creare delle fonti di cibo Autonome Steph Perché non possiamo Motivo per cui Io ti direi Bucchiamo da questa parte Ok Ok E facciamo una piccola parte In terra E aspetta Che c'è? Fere Non abbiamo l'acqua Bravissima Esatto Tu avevi il secchiello Perché non hai preso l'acqua Mi sono dimenticato Fere l'acqua con le radiazioni Diventa radioattiva Ovviamente No Dobbiamo andare in profondità Finché non troviamo dell'acqua Steph ma io dico Fere Hai pensato alle pecorelle Zato il tempo E poi non mi prendi Un secchiello d'acqua Esattamente quello che è successo Oh mio dio Vabbè qua piazziamo comunque la terra Per ricordarci che sarà un po' la zona Dove coltiviamo Sì sì In cui coltiviamo il nulla Perché davvero Sì ci tocca andare in profondità Finché non troviamo dell'acqua Quindi molto in profondità Steph Ah vabbè Dipende dalla fortuna Surtuna Assolutamente sì Ok Bella Bella coltivazione Arida come le nostre vite Dove non succederà nulla E moriremo nel giro di tre giorni Io l'ho detto all'inizio E lo ripeto adesso Allora io deposito un attimino le cose Perché Steph è il mio compagno di avventura Io continuo a chiedermelo E nessuno mi dà le risposte Facciamo le cose ordinate Allora Sinistra mettiamo tutti i blocchi Mi dai un attimino il piccone Mi serve il piccone Grazie Perché qui sopra Altrimenti le casse non si aprono Quindi bisogna un attimino sfondare qui Hai ragione Eh certo Altrimenti queste ce le sprechiamo E al momento non ho voglia di certo di riorganizzare il bunker Tanto non c'è tanto spazio Allora a destra cibo, semini e quel tipo di cose Sinistra blocchi che craftano classici Allora metto anche i miei Metto anche i miei Eh ci metto anche questi E direi poi magari qua di mettere gli oggetti Che sono un po' più particolari Anche i sapling mettiamo Il secchiello lo otterrei Questo lo otterrei Direi che è il caso di riprendere un attimino la stone Per craftarmi un'altra spada Faccio una spada anche per te? Eh sì Io non ho una spada Ok Gli utensili erano per uno Quindi ho solo i tuoi Quando me li presti Perfetto Allora facciamo anche un altro piccone direi Vai vai Io sono un po' spaventato No io quando mi hai detto che non hai preso l'acqua Ho perso tutte le speranze Quindi sto andando avanti Non so con quale senso di positività Perché non ce l'ho sinceramente Neanche io al momento Quindi non so più che dire Non so più che dire Perché vorrei essere positiva Ma è praticamente impossibile E tieni Ok perfetto Allora Allora facciamo così Facciamo così Questo era tuo Se lo rivuoi non lo so Te lo sei rifatto? Oh vabbè Vabbè non è che ti serva molto Vabbè conservalo Conservalo Comunque Allora mettiamo Ancora tanta utilità Quindi è giusto conservarlo Facciamo così E poi questi vanno rimessi qua Ok Verso dove scaviamo Facciamo qua una zona miniera Sì Parla Secondo me potrebbe andar bene Vero? Anche secondo me Anche secondo me Andiamo Sono depressissimo Anche io Non so più che dire No vabbè Allora però Se troviamo l'acqua Secondo te i semini cresceranno? Non ho idea Perché Senza il sole Perché questo raga Non è un mondo vanilla classico Capiatelo subito Ebbè Stef Appena è caduta la bomba Con delle radioscine È normale che le cose sono diverse Esatto Non può essere un mondo normale Come lo conosciamo Di conseguenza Non possiamo sapere Se crescono le cose Per logica Mi verrebbe da dire di no Però noi possiamo fare Un effetto serra Sai costruire una serra Stef? No Ecco Bravo Possiamo imparare Qualcosa dovremmo impararla Nella vita Sì Stef Hai un'enciclopedia? Perché il telefono qui sotto Non prende Quindi non puoi usare Google Non abbiamo neanche un telefono in realtà Infatti L'hai lasciato di sopra Ok vabbè Non mi sembra che qui abbiamo Magari una caverna Delle vicinanze Quindi ci toccherà scavare l'infinito Già Vai Stef Divertente Penso se sono arrivate le radiazioni Dimmi C'è del ferro Stai scherzando Tantissimo Hai delle torce? Sì No Stef Sembra quasi una trappola Esatto Ti so per dire qui qualcosa Deve andare storto per forza Allora Vedo luce Lava quindi No redstone Redstone Quindi siamo vicini anche alla lava Ok Metto un'altra torce qua Altro ferro Carbone e ferro Comunque bene o male Siamo messi abbastanza bene Vabbè ma in miniera comunque Vivendo in un bunker Cioè i minerali E la coble E infatti Non è quello a cui abbiamo pensato Sulla superficie Il problema ancora Ma Stef Che c'è? No vieni qui Perché se te lo dico Non ci credi Vieni vieni Diamanti Sono felicissima Stef Perché se vivrò tre giorni Saranno i tre giorni Più belli della mia vita No fere fere Vieni più avanti Raga Io vi giuro che non è fatto apposta Perché poi non ci si crede No Ve lo giuro Ok No è totalmente casuale Totalmente casuale Questa cosa è incredibile Wow E allora Ti volevo dire una cosa Sembrano quasi un insegnamento Ovvero che per una volta Quando ti sono più utili degli animali Del diamante Trovi il diamante Esatto Quando vuoi trovare le cose semplici Trovi quelle più complesse Sempre così E ti ricordi dell'importanza Delle cose semplici Rispetto a diamanti Esatto Vabbè io Stef a sto punto però Prendo il ferro E vado a prendere il diamante Cioè almeno se devo fare una brutta fine Stef Però non hai imparato l'insegnamento mi sa No per niente Se devo fare una brutta fine Voglio farla col diamante tra le mie mani Quindi io te lo dico Va bene È così il destino mi ha chiamato Non so bene a cosa ci servirà Non posso non rispondere alla chiamata del destino Stef Perché sai che poi succedono cose brutte Se tu non segui il tuo destino E le cose a cui sei predestinato Certo perché vivere sotto in un bunker Con una bomba esplosa nel mondo Dove non possiamo ridere Ma vedi lato positivo Perché ci sono le radiazioni Abbiamo i diamanti Hai sentito un rumore di zombie? No ti prego Aspetta che qui però Scusa un attimo Sì l'ho sentito Sposta di Ci serve una sorta di scaletta Vai Penso Che sia sopra di noi Come sopra di noi? Io non lo sento te lo giuro eh Io non lo sento No però non è Probabilmente sta alla nostra sinistra Esatto Probabilmente sta vicino Ok allora io risalirei un attimino Ah ora lo sento pure io Tanto comunque Non penso che i diamanti minerali scappino Quindi direi un attimino Ma assolutamente no Non c'è anima viva Ci siamo solo noi Allora io ho preso 27 di carbone ragazzi Non so perché mi rincuora un pochino Avere tutto questo carbone Considerando che comunque Per adesso abbiamo tanta legna Non è male La legna ferre non va sprecata Per nessun motivo al mondo No infatti Finché non siamo in grado di far ricrescere Ho raccolto E alberi Ti avviso il cibo cotto Quindi lo sto mettendo nella cesta Ma se noi killassimo degli scheletri Avessimo la bombial Anche se non abbiamo la luce del sole La facciamo crescere a forza Eh sì sì In effetti un'idea Certo avere così tanta bombial È impossibile Però almeno qualcosina Se abbiamo bisogno di quel minimo di grano Non è male No assolutamente È qualcosa di positivo Assolutamente Sì dai Almeno stiamo riuscendo a vedere Il lato positivo della situazione Cioè se infatti Comunque ci sono Ci sono gli zombie Perché li abbiamo sentiti Quindi se riusciamo A ucciderli E a portare la fortuna Dalla nostra parte Potremmo anche riuscire a sopravvivere Mettiamola qui Vedremo Comunque Per questo primo episodio Noi ci fermiamo così Nel secondo episodio Fai è pronta A prendere il diamante Andremo un attimo A dare un'occhiata in superficie Perché dobbiamo capire Cosa sta succedendo Adesso è passato Un po' di tempo Dell'esplosione Quindi secondo me Nel secondo episodio Possiamo permetterci Di andare a controllare Non so Che fine ha fatto il mondo Però daremo uno sguardo E lo scopriremo Noi comunque Ci fermiamo così Per questo video Speriamo che vi sia piaciuto Speriamo che questa serie Vi piacerà Sarà veramente divertente E piena di sorprese Che ancora non vi aspettate Qui è stato questo Se volete sapere come altri video Iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo In un prossimo video Ciao ciao